Negli ultimi decenni dell'Ottocento i confini della pittura europea si allargano, nascono nuove realtà e nuove scuole anche nei territori più lontani rispetto al centro. Certo un po' tutti guardano a Parigi in questi anni oppure anche a Vienna alla fine del secolo ma anche in zone lontane apparentemente periferiche abbiamo dei fenomeni artistici di grandissima rilevanza. È il caso del norvegese Edvard Munch, un pittore aggiornato, un pittore che viaggia, che conosce certamente le punte più avanzate delle avanguardie europee ma che è nello stesso tempo, un interprete molto peculiare, molto particolare di atmosfere nordiche scandinave che sono del tutto diverse rispetto a quelle delle città che stavano crescendo e allargandosi nel cuore dell'Europa. Munch è un pittore dalla fortissima vena introspettiva, è anche un uomo tormentato, la sua vita non sarà facile, sarà anche vittima di gravi crisi depressive, verrà ricoverato in sanatori e nella sua pittura si trascina anche un senso di tensione che a volte raggiunge il parossismo. È il caso della sua composizione più celebre che è diventata quasi una delle icone della modernità. È una di quelle immagini che tutti abbiamo visto e che viene spesso ricordata proprio per la sua intensità emotiva ed espressiva. È intitolata L'urlo, ne conosciamo varie versioni sia in pittura che in incisione, quasi a testimoniare il fatto che Munch sia ritornato più di una volta su questo stesso soggetto. Come racconta lo stesso Munch, questo dipinto è ambientato in una di quelle lunghissime sere dell'estremo nord, questa luce del sole che sembrano, anzi che di fatto non tramonta mai. Munch dice, ero vicino ad un fiordo, non lontano da un ponte e ho sentito come un grido attraversare la natura. Questo grido è quello che percuote, scuote, sconvolge la figura in primo piano, che è una sorta di autoritratto stravolto del pittore, in cui i lineamenti vengono quasi annullati da questo scossa interiore, di questo grido, da questo urlo che attraversa la natura. Ora qui si vede molto bene l'influsso esercitato da Van Gogh. Munch riprende da Van Gogh questa pittura piena, carica di tensione, di una sorta di eccitazione esasperata ed esagerata che lo porta a sconvolgere le forme, ad abbandonare la, diciamo, la struttura canonica, accademica, anche le proporzioni del corpo umano e a lasciare che la pittura sia libera e deflagrante espressione di un surplus emotivo. Ecco appunto espressionismo, questo movimento che nasce con Van Gogh, trova in Munch rapidamente un altro importante esponente. E la carica espressiva si trasmette anche alla gamma dei colori che sono stesi a lunghe striature e che proprio caratterizzano in modo inconfondibile la pittura di questo artista aggiornato ma isolato. È importante ricordare che Munch non è affatto un pittore sganciato dai movimenti e dalle avanguardie, sa tutto, conosce tutto ma sviluppa una sua propria tematica espressiva che è legata al suo stato d'animo e che diventa una delle metafore del disagio contemporaneo.